Voi siete abitate in queste zone? Qui arriva l'onda che si incontra l'acqua di su e l'acqua di giù Quindi è un problema nuovo adesso? In un mese mai successo Da quando hanno fatto la 35 terza Prima non succederà Da quando hanno fatto la 35 terza in un mese tre volte Ma è successo Il motivo ci sarà Voi siete al corrente che a monte, qui a 500 metri ci forgerà un campo base Voi pensate che questo possa aiutare? Questo è il nostro per l'ambiente, per il popolo, per la scena Dobbiamo potenziare le strutture di sistema Non farne il nuovo inizio Capito? Vuoi dire qualcosa tu rispetto a questo avvenimento? Ci rischiamo anche noi Ci rischiamo anche noi Abbiamo tutti i diventi Chiediamo caro tutti gli esseri civili normali Di vivere una vita normale Di dormire una notte serena Senza l'incubo di avere l'acqua in casa al mattino o la notte Non ce la facciamo più tre volte in un mese Non è vita questa Che facciamo qualcosa Ma non domani Oggi Oggi Non domani Perché domani è tardi Ormai noi non dobbiamo più niente Ma si poteva fare qualcosa prima? Io penso proprio di sì Non aspettiamo sempre che sia troppo tardi tutte le volte Grazie Monica